Che sta passando quando andiamo al tralaco E' questa che stai meditando E quando llego mi cuentas tutto Che sta passando Con solamente 3 absoluti 8 meno tutto lo che si consigue 7 meno E' questa è la storia di un buon amico Che compra un telefono Che compra un telefono Alla volta E' questa maniera E' questa maniera E' il telefono togando Che è proprio sì Che in colcio interior Che è tanto ubicato Che è stato un bico Che è stato un bico Ehi, buonanotte! i si i 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